Clamoroso passo indietro del campo basso sia sotto il profilo del gioco oltre che ovviamente sotto il profilo del risultato. Nel big match dell'infrasettimanale contro la San Benedettese infatti la squadra di Cappellacci cade per 1-0 mostrando le consuete, diremmo noi, deficienze difensive e non riuscendo a pungere in avanti. Una brutta sconfitta che taglia sicuramente le gambe ai giocatori rosso-blu per quanto riguarda le ambizioni adesso di vertice. Bisogna lavorare parecchio affinché questa squadra davvero possa lottare per il primato. Campobasso che si schiera dall'inizio con Todino al posto di Dimash non in perfette condizioni e di Pasquale al posto di Ferrani. Censore invece a centrocampo. Sembra partire bene il Campobasso quando Bucchi all'ottavo di testa sul primo pallone. anticipa tutti sul cross di Todino e il pallone va fuori per la San Benedettese dopo solo un minuto. Sabatino vicinissimo al gol, para Capuano sulla ribattuta Gattari, salva. Poi ancora Todino che sulla sinistra sembra in questo primo quarto d'ora andare molto bene. Ancora per Bucchi il tiro è strozzato e va alto. Però c'è la Samb sempre vicinissima quando al 29esimo si fa vicino al gol con Perna che da solo davanti a Capuano colpisce solo l'esterno della rete. Poi al 35esimo il primo colpo di scena. Gattari praticamente con pallone lontano colpisce con un cazzotto probabilmente buon vissuto. L'arbitro vede Spelle. Prima dà il rigore poi cambia idee da punizione alla San Benedettese. Campobasso in 10 e alle corde iniziano il festival dei pali per gli ospiti al 39esimo. Infatti palo clamoroso di Barone. Il Campobasso con l'orgoglio prova a replicare al 43esimo bel colpo di testa di Alessandro. Ma il tiro è centrale. Nella ripresa Cappellacci corre ripare inserendo in difesa Fusaro al posto di Todino. Ma è sempre la San Benedettese a rendersi pericolosa. Sempre ancora con Titone che al quarto minuto questa volta fa scoccare un altro gran tiro. Ancora una volta il palo. Poi un minuto dopo sembra cambiare di nuovo il match quando il terzino Flavioni sbaglia tutto. Si fa munire in pochi minuti per due volte dunque ristabilisce la parità numerica. Il Campobasso ci crede. Due occasioni molto importanti. Entrambe con una percussione centrale. Prima al decimo con Bucchi che però spara addosso al portiere. Poi al ventisettesimo con il non entrato Dimash proprio al posto di Bucchi. Che fa tutto bene tranne poi la conclusione finale ancora una volta addosso al portiere. Al trentottesimo c'è il gol di Bonvissuto che in area di rigore da consumato centravanti. Stoppa e infila all'angolino Capuano. 1-0 per la San Benedettese. Campobasso incapace di reagire. Ripetiamo un clamoroso passo indietro non solo dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista della prestazione. 12-0 per la Pertele Zimest Zigliera. ! ... ... ... ... ... ... ...